Molto poco What's up guys, qui è il vostro Naked che vi parla ragazzi Siamo tornati con un nuovo video Signori miei Come promesso Oggi La seconda arma che ritengo Meta attualmente Ovvero la seconda arma Uscito con l'aggiornamento di season 2 Bildozza Certificata Da Nazionaro che la sta usando Nelle ranked insieme all'arma di ieri In modo veramente Prepotento Lones quindi Che dirvi ragazzi Continuiamo e oggi scoprirete La seconda arma del diablo Eccolo qua Tutuloni miei Il ramozzo 9 Il Praticamente il figlio Del Dell'arm 7 In versione Mitraillettina Build Nazionale Neanche a Neanche a Controllabile Ma soprattutto Come potete vedere ragazzi Super Fast Laserete Laserete Tutti i vostri enemies Con estrema prepotenza Bed di miei Questa è la perfezione Fatta a build Primo accessorio Il calcio Ukers 5 Bello Croccantello Che ci dà Del bel Controllo Recoil Perché adesso la build Che vedete da qui in poi Sarà Perrettamente Riguardante Al movement Quindi un accessorio Per il recoil Secondo accessorio Canna leggera Che ci dà un boost Notevole In Entrata modalità Merino Nel movement E influisce pochissimo Nel recoil Generale Volata Spengi fiamma Bello Cadduosello Che influisce Soprattutto Anche qua Per il recoil Ma non invade In modo prepotente Come altre Volate L'entrata In modalità Merino E il movement E in più Ci tiene L'arma Il sibillio Del mirino Bello Fermo Che è importantissimo Quarto L'accessorio Sotto canna Ferma mano DR6 Boost Finale Per l'entrata In modalità Merino Anche questo Ragazzi Fondamentale Questo non influisce Minimamente Sull'entrata Scusatemi Sul recoil E sulla portata Danno E ultimo Accessorio 40 Col Poloni Molti diranno Nazionale Perché i 40 E non i 50 Allora ragazzi Io l'ho parlato Anche con i 50 Soltanto che con i 50 Parere mio Personale Nonostante la build Sia molto fast Non lo so Non Mi perde Quel super movement Me la rende Un pelo Più legnosa Non che Ve li escludo A priori Ragazzi Se avete la necessità Di avere questi 10 colpi Più Li potete mettere Soltanto che c'è questo Piccolo Particolare Che Ve lo segnalo Che i 50 colpi Influiscono Abbastanza Sia sull'entrata Sia sull'entrata In modalità Mirino Sia sul movement Quindi sta a voi Ragazzi Se volete La volete Super fast Dovete mettere i 40 Se non vi interessa Mettete tranquillamente I 50 Quindi ovviamente Fatemi sapere Qua sotto nei commenti Cosa ne pensate Ragazzoli miei Noi ci vediamo Lui di con il prossimo video E vi faccio un recap Di tutte le classi Da utilizzare Adesso Su Warzogno Un bacione E un abbraccione Dal nazionale Bella ragazz Guarda giuro Nervoso Mi sta facendo venire Ma c'è un altro qua Adesso Non mi interessa Non mi interessa Infatti Il bot È entrato? Mi ha dis... Ma il zio Ma la terra Come uno ha iniziato Fatti Fatti Oggi è qua Sì Esterno Esterno C'è uno Due Morto Non ho altre shield Sono nella merda Oh merda Da dietro Da dietro Non l'ho fatto Da me Da me Da me Lory Arrivo Entra 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 Vabbè Zio cane Che timing Ha droppato Ha droppato Ha droppato Il v-sat No Non è che metto Un cazzo Ha droppato Bombarda Uno shop La minigun Fatemi C'è uno Lì da voi Sta per durare Molto poco Qualcuno sta andando alla nostra vecchia rocchia Io non c'ho le texture Guarda anche voi Mi spara da dietro? Vabbè la broma veramente Dove c'era più o meno Prima lo shop Prima Li vedo Due team All good Sniper Mi chiamava demolito Non sono anche uscito a salire Mi stava proprio tenendo Questa position Che cazzo mi ha sentito È un campo d'addestramento È il gulag Combatti per tornare in azione Bastardone Bastardone Io ho beccato Guarda sta luce Che cazzo è sta luce che c'è dentro il gulag Uno l'ho craccato lì Uno l'ho craccato lì Ma che cazzo è Fra ma li vedi queste texture che fa tipo Tipo quando scuoti il lenzuolo Guarda si gonfia Fra si gonfia Giuro Per fammi salire È una gentilezza del gioco questa Roba da pazze Scegli io raga Se avete cazzo a scelta fate un favore No non voglio Che cos'è Che cos'è C'è lo shop Ho busciato sotto questi Non ho più scelto Non ho più scelto Sbombardo Sto beccando da lori Gas in avvicinamento Nuova zona sicura No che ci pushavo l'ho preso No raga 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 vi prego Qua è lo vuoi c'è lo puoi c'è lo puoi c'è lo puoi c'è lo puoi c'è Sì sì va bene va bene Vabbè va bene Una отв tape Non in acqua Non c'ero l'ottica Lo che ho Mi resta mi resta Mi dico la sinistra L'altro sinistra Qua ho lanciato cassa a muni bro, ti ha pushato, ti ha pushato T'ho irritato un po', t'ho irritato un po', pasterò Bravo Bravo, paster Sfai, sfai C'è l'arma, sfai, ho preso la cassa, sfai Ho attirato qua, l'ho fatto C'è altra gente? No, no, stavo sparando un flyer Lì allo shop, sei sicuro perché hanno un per arrestato Sì, sì, sì Mi lasciate anche i soldi, mi compro le armi Qua, qua da me Quanti sono, fuori No, per niente amici questi Raggiungete la zona sicura Ti vedo nell'hangar sotto, l'ho lì No, no No, un altro Un altro che cammina Raggiungete la zona sicura Ruttiamo a sinistra, bombardo, bombardo Raggiungete la zona sicura Stava ricaricando la... Costa Ah, che... Ci serve una ricognizione aerea Ci uav Mi sonocita la zona sicura State alla zona sicura sono infrattati però lì all'altra sinistra l'ho preso ho fatto un altro un altro sopra di me sta c'è anche uno qua raga è morto è morto ho fatto una cazzata andate andate raga ho fatto una cazzata io si raga non arriva più il gas raga c'è un altro bro guarda lo vedo odio 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 sinistra sinistra ma lui è da zariate in fondo alla staccionata vabbè bucce bravissimo bravissimo vabbos vabbos